Ciao Semmi, eccoci qui dopo tantissimo tempo, è un piacere vederti, ciao! Piacere tutto mio! Ecco, oggi ci troviamo qui per questa grandissima iniziativa del dottor Ivo Pulcini insieme a tutti quanti coloro che hanno collaborato, un cuore per tutti e tutti per un cuore! Mi pare un'iniziativa molto nobile, molto importante, oltre a tutto questo Ivo è un mio carissimo amico quindi è un dovere per me stare qui questa sera! Ecco, di questo noi siamo tutti contenti, c'è veramente un grandissimo afflusso ed è veramente la sorpresa rivederti dopo un po' di tempo, cosa stai facendo? Approfittiamo per domandarti! Ma diciamo che io sono un po' qua a Roma, vivo soprattutto a Parigi, in questo momento poi ci sono dei progetti e vedremo un po' nei mesi a venire! Perfetto, allora nel frattempo abbiamo questa anticipazione e noi ti ringraziamo di tutto quanto! Grazie a tutti, ciao! Arrivederci!